Ecco, il comando di blocco è partito Il comando di blocco stiamo cercando di aggiungere il testello Speriamo di aggiungarlo, che oggigiorno molti testelli si giogano Quarta è male Siamo in servizio ragazzi Ormai sono due ore che aspettiamo Abbiamo avvistato dei ragazzi Abbiamo avvistato giù in fondo dei ragazzi Vedremo cosa vogliamo fare Vai, vai, attacca, attacca, prendili, prendili Ambra che c'è nella fumata Non ci fanno vedere, non sa che c'è nella fumata Questi si drogano Chiamo la pattuglia, chiamo la pattuglia Comando 14, li abbiamo acciuffati Agiamo, dobbiamo aspettare Agiamo, ok, agiamo Quattro sette, affa 32, agiamo Quattro sette, affa 32, agiamo Dai 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 attenzione ragazzi non so che fare due come potete vedere due se l'hanno scampata ma un terzo è rimasto ma ecco prepara, vieni qua con l'auto io che tambor mi sta divertendo eh si diverso manetti, manetti, manetti e devi imparare a fare bravo oh piotti, piotti che roba c'è il nostro oh, oh, la mano gli piali oh cos'è su? chi ti piace? chi è su? come si piace? come si piace? i drogati 18 anni i drogati, la dove fai finita a te hai 3 anni? 3 anni è freddo eh no, 3 anni no ho 2 figli e una famiglia no se mi sanno, non hai capito che il trada sta bene con me chi sta svolverendo? maresciallo comandante tredesto di sette secoli bocca dentro, manetti nooo no dentro 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 oi dentro